A Ginevra ci siamo incontrati con investitori provenienti da tutto il mondo dei fondi della 21 Investimenti. La 21 Investimenti, che è questa società che ho fondato all'inizio degli anni 90, è una società che considero un po' mio figlio dal punto di vista imprenditoriale. Essere imprenditore è stata una scelta che aveva a che fare con la ricerca dell'espressione del mio vero io, dei miei veri gusti, della mia necessità, la necessità di sentirmi libero. Ecco, questo vuol dire essere imprenditore per me. Ascoltando le storie che venivano raccontate, dei singoli investimenti, dei progetti di aggregazione, delle grandi mutazioni in corso, mi sono reso conto che quello che vale per la Benetton e per il settore dell'abbigliamento vale per molti altri settori in questo momento. Io credo che siamo in una perioda compliquata per i entrepreneurs, ma fondamentale, perché è in questi momenti che dobbiamo mostrare i capacità, in questi momenti che dobbiamo progressare e prendere le parto del mercato. Quando c'è una crisi, gli investimenti diventano come lemmings. Quindi, tutti stanno per la porta al stesso tempo e questo è ovviamente l'opportunità. Io credo che per un grande numero di persone in Europa, noi vediamo l'optimismo e l'confianza. Quindi, non sono così pessimistica per l'Europa. A qualcuno di giovane che vuole lanciare in un'entrepris, io diria che è fondamentale. Il mio primo consiglio è, soprattutto, essere voi. di avere una visione di un'attività, e avere molta courage e tenacità a questo giorno. Non specializzare troppo pronto. Puoi essere troppo in un'area lunga che non piacciono. Il mio primo bisogno di essere molto, molto chiaro su cui vuole andare. iscrizione al canale e... Version